ecco qui per un modo per fare delle moltiplicazioni dal numero 5 al numero 99 allora ho appunto il numero 85 e moltipliciamolo per 96 allora ora dobbiamo vedere quanti numeri ci sono tra 85 e 100 e ce ne sono 15 poi vediamo da 96 a 100 quanti ce ne sono ora dobbiamo sottrarre il numero 85 con il numero 4 e il numero 96 con il numero 15 81 come potete vedere il numero è uguale ora dobbiamo moltiplicare il numero 15 per il 4 60 e facciamo così il primo numero lo scriviamo qua e il secondo risultato lo scriviamo a fianco 8160 ora andiamo a vedere il risultato con la calcolatrice 85 per 96 uguale 8160 si trova ok grazie per aver visto il video ciao ciao